Arrivederci domenica. La Lega Pro ha deciso ormai che la Paganese non debba più giocare in quello che una volta era il giorno di festa per eccellenza. Si scenderà in campo sempre al sabato, almeno per un mesetto. Azzurro stellati che da qui al primo novembre infatti anticiperanno di un giorno la propria partita di campionato. Si comincia da oggi con la Juve Stabia, poi sabato prossimo alle 17 trasferta al San Vito di Cosenza, stesso orario per la sfida interna del 18 con il Melfi. Derby isolano con l'Ischia alle ore 15 sabato 25 ottobre e sabato primo novembre alle 16 il match interno col Barletta. Dunque cambia anche la settimana tipo di allenamento per i giocatori, cambia il giorno di riposo non più il lunedì, bensì la domenica cambia tanto anche per i tifosi della Paganese, molti dei quali non potranno seguire la propria squadra del cuore specie in trasferta al sabato, molti fortunatamente lavorano. Tornando al derby di oggi con la Juve Stabia, Mr. Cuoghi non avrà Gai, Schiavino e soprattutto il centro avanti Girardi. Ci si attende molto dalla coppia Caccavallo-Malcore che dovrebbe giostrare in prima linea. Ecco il pensiero di Cuoghi sulle Vespe Stabiesi e anche sulla possibilità di un ritorno sul mercato degli svincolati da parte della società Azzurro Stellata. C'è la Juve Stabia, è un avversario che ha cominciato solo con la prima partita male poi pian piano si è ripresa, forse ha accusato anche il colpo di quella mancato ripescaggio in Serie B per rimettersi a posto. Ecco che avversario pensa di trovare di fronte domani in questo derby che comunque è sempre molto atteso? Penso che ci sono delle squadre favorite. È una squadra composta da giocatori molto importanti per la categoria e non solo perché se non sbaglio di Carmine non doveva rimanere per andare in Serie B, invece è rimasto in Lega Pro. C'è giocatori anche di grandissima esperienza, dalla Camera a Caserta, Gidai, quindi giocatori con un petit gris importante. Sono una delle favorite, però andiamo in campo 11 contro 11 e grandissimo rispetto ma non dobbiamo avere nessun timore. L'ultimissima domanda è sul calciomercato. Si è allenato e si sta allenando con voi Rocchi. Diciamo che ci sono anche altri giocatori in questo momento svincolati. C'è la possibilità, visto anche l'infortunio di Girardi, che si possa nell'immediato trovare la pedina giusta o una pedina alternativa? Io spero e penso di no. Per dei motivi molto semplici. Che prendere giocatori svincolati vuol dire che non si stanno allenando, che non si sono allenati, che non hanno fatto la preparazione e non è che io possa allenare dei giocatori che continuamente vengono senza preparazione. Io devo metterli a posto per dei mesi, subire critiche e poi dopo, quando saranno a posto, non si sa se poi saranno a livello migliore degli altri. Io credo che il mercato svincolati sia un mercato difficile. Io sono contento di quello che ho e quindi non sto a lamentarmi né dell'assenza né mi interessa, perché se no di calciomercato parliamo continuamente per 365 giorni all'anno, mentre a me non piace eccessivamente parlare di questa cosa. Non penso che in questo momento abbiamo intenzione, abbia la società intenzione di prendere i giocatori, poi non lo so. Io non sono una società, quindi è una domanda che dovete, io non ho chiesto niente, ma che dovete rivolgere alla proprietà. Incerottate invece la Salernitana che oggi si appresta alla trasferta di Foggia. Gara insidiosa, delicata, complicata. Menichini lo sai ed è per questo che ci ha andato con i piedi di piombo in questi giorni. Vuole la massima attenzione dei suoi, anche perché la partita con il Melfi non gli ha affatto piaciuta. Nuovo arrivo invece in casa cavese. Come anticipato ieri sera, il club metelliano ha ingaggiato il centrocampista Thomas Orsten, 20 anni, che arriva dal PSV a Eindhoven. L'anno scorso ha giocato in Serie B con la seconda squadra del PSV, lo Young PSV, una sorta di mix tra giovani della primavera e riserve della prima squadra. 31 le presenze totalizzate, condite da un gol. Non potrà giocare a Bisceglie Orsten perché mancano ancora alcuni documenti relativi al trasferimento. Infine la nocerina, che oggi ritrova il suo metronomo Galdi, fisico e capelli rasati alla Tatum, il regista di una squadra che arriva al match a porte chiuse col Massa Lubrense dopo due gare senza successi. Un pari, quello beffa col Sant'Antonio Abate, una sconfitta netta e pesante a Vicacuenze. La vetta si è allontanata, per riavvicinarla urge cominciare a vincere da oggi.